La base operativa era nel quartiere delle cosiddette case maledette, ma l'organizzazione riusciva a piazzare la sua roba nell'intera città. Cocaina, ascisce e marijuana riempivano tutte le piazze di spaccio e la concorrenza veniva allontanata con il suono delle pallottole. E il romanzo criminale è ambientato a Trinitapoli, protagonista una banda specializzata nella vendita di stupefacenti, composta da elementi vicini al clan Miccoli de Rosa. A scrivere la parola fine sono stati i carabinieri del comando provinciale di Foggia che questa mattina hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone nell'ambito dell'operazione Turnover, portata a termine in collaborazione con lo squadrone Liportato Cacciatori Puglia e l'unità Cinofile. In 8 sono finiti in carcere, 4 ai domiciliari. L'ultimo atto di una lunga indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari è partita a seguito dell'omicidio di Severino Benedetti, 42 anni, ucciso a colpi di fucile il 12 gennaio 2015 nelle campagne tra Margherita di Savoia e Trinitapoli. L'attività investigativa ha permesso di far luce sugli affari illeciti del gruppo malavitoso, inizialmente guidato da Pietro de Rosa, assassinato il 20 gennaio 2019, e poi dei fratelli Nicola e Michele Buonarota, responsabili dei contatti con i fornitori e della gestione delle entrate, adesso finiti in carcere. Tra i destinatari della misura cautelare c'è anche il 33enne Alberto Campanella, già detenuto perché accusato dell'omicidio di Cosimo Damiano Carbone, 64 anni, elemento di spicco della criminalità locale, vittima di un agguato davanti alla sua abitazione il 14 aprile 2019. Con loro sono finiti in manette tutti gli altri componenti dell'organizzazione, ognuno con un ruolo ben preciso, dall'approvvigionamento degli stupefacenti in mano a due cerignolani, sino alla vendita al dettaglio garantita da una rete di pusher attivi notte e giorno con le vedette a guardare loro le spalle. Il controllo delle piazze di spaccio veniva difeso con la forza delle armi, come rilevato nel corso delle indagini dalle immagini catturate dalle telecamere nascoste. Un business fondamentale per il gruppo criminale di De Rosa Buonarota, da anni in guerra con i rivali storici dei carbone gallone per il controllo delle attività illecite sul territorio. Gli arrestati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso.